ciao e bentornati a crochet romance ormai il nostro cuscino con le mattonelle granny square è quasi concluso siamo alla penultima mattonella da completare oggi ho scelto la base realizzata con il colore D e la base classic granny square e per fare la decorazione realizzeremo dei piccoli fiorellini e io ho scelto di realizzarli con il colore A, B e C vediamo quindi subito il tutorial e prima di questo però vi ricordo che tutti i link utili per realizzare il completo cuscino li trovate sotto a questo video nell'info box iniziamo a realizzare il centro del fiorellino con il colore A facendo un anello magico che chiudiamo con una maglia bassissima adesso lavoriamo 5 maglie basse all'interno di questo anello magico stringiamo la codina e ora lavoriamo 2 maglie basse in ognuna delle maglie basse che abbiamo lavorato quindi alla fine di questo giro avremo 10 maglie basse 2 nella stessa maglia abbiamo 6 2 nella stessa maglia abbiamo 8 2 nella stessa maglia e abbiamo 10 ora chiudiamo con una maglia bassissima entrando nella maglia bassa successiva stringiamo ripassiamo l'asola il filo attraverso l'asola e tagliamo la codina lasciamo la codina abbastanza lunga perché ci servirà per fissare il fiorellino alla base adesso prendiamo o il colore b o il colore ci per realizzare i fiorellini facciamo un'asola d'avvio e entriamo in una delle maglie basse nel giro precedente prendiamo sul davanti l'asola che abbiamo creato scusate la devo rifare perché mi scappata ok adesso facciamo una maglia bassissima per fermare il filo e ora vediamo come realizzare il fiorellino lavoriamo nella stessa maglia una maglia bassa 3 maglie alte e una maglia bassa poi facciamo una maglia bassissima nella maglia bassa seguente e adesso ripetiamo per tutto il giro quindi nella prossima maglia lavoriamo una maglia bassa 3 maglie alte e una maglia bassa e nella seguente una maglia bassissima proseguiamo fino alla fine del giro in totale vi si formeranno cinque petali e adesso chiudiamo il giro con una maglia bassissima entrando qui nella prima maglia bassa che abbiamo fatto poi ripassiamo il filo tagliamo l'asola e ovviamente lasciamo una codina abbastanza lunga per poter cucire in totale ho realizzato sei fiorellini ovviamente voi potete scegliere di farne anche di più ora li attacco tutti alla mia mattonella ed ecco il risultato finito come vedete li ho cuciti a caso sulla mattonella e adesso vi do appuntamento per settimana prossima con l'ultima mattonella e ovviamente poi la settimana successiva vedremo come unire le mattonelle e rifinire in definitiva il nostro cuscino iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e fatemi vedere i progressi delle vostre mattonelle nel gruppo facebook ciao